si è meglio di lì, te l'ho detto subito che era meglio, va ti butto sull'onibus dentro in un cassone di quelli lì, cioè quando sono arrivato giù ho visto la sua moto, sono scivolato e sono caduto sopra la moto, guarda dov'è, cioè va che è il colmo quelli stanno facendo una strada nuova, il colmo guarda io dovevo parcheggiare c'era lui davanti agli occhi, davanti agli occhi cazzo, solo che l'ho puntata, ho fatto per andare in su di modo che ho detto la parcheggio lì e non l'ho guardato, davanti agli occhi era e lui è caduto sulla moto, praticamente gli cadeva in bocca e si attaccava cazzo, e quello cosa ti ha detto? Dillo Lorenzino, dillo, dillo l'ultima, di cosa mi hai detto a me? cioè, ma te ti rendi conto che cazzo di elementi abbiamo dentro, ma tu ti rendi conto, ma vuoi sapere lui? L'ho visto io quando sono salito, ma non mi sono mica ricordato anzi lo stavo anche usando per, no ma io l'ho visto proprio, cioè, no non è possibile e non è che vieni in metà di ovo ragazzi, vuoi che non è giù? tu ho detto che non mi ricordavo più, tu ho detto che c'è la memoria, è data zero sono caduto lì sopra la moto uno li cade di sopra, quell'altro, io ci ho parcheggiato, lui è passato, perché lui è passato sul sentiero, ha detto, lui è passato quindi e poi c'è passato te, è passato anche lui, lui è giovane però sono passato sopra è un po' fredo mia, vedi?